E' con piacere che annunciamo alla cittadinanza di Pulsano la riapertura dell'asilo comunale, l'asilo nido comunale Le Coccinelle, chiuso dal 2018 e riaperto finalmente nel mese di marzo 2024. A Pulsano è dedicato alla piccolissima Matilde Diana, scomparsa prematuramente a causa di una malattia che non le ha lasciato scampo, il nuovo asilo nido comunale Le Coccinelle, che l'amministrazione D'Alfonso restituisce alle famiglie del territorio dopo un'attenta riqualificazione. Il nido comunale era stato chiuso per carenza di fondi e di finanziamenti nel 2018, finanziamenti che poi siamo riusciti a recuperare presso la Regione Puglia. Abbiamo utilizzato anche fondi propri e siamo riusciti a raccogliere quelle cifre necessarie per fornire di nuovo a Pulsano un servizio fondamentale. Che tipo di servizi offrirà rispetto a quelli offerti in precedenza? Allora, in realtà sono gli stessi servizi. Ci saranno due classi da questo mese di marzo, la classe che va per i bambini dai 12 ai 24 mesi e una seconda classe per i bambini dai 25 ai 36 mesi. Ci stiamo attrezzando anche per portare da settembre la terza classe, quella dei cosiddetti lattanti, dai 6 mesi all'anno. Grazie a tutti.